Parliamo di Missano, sarà la prossima gara, tu conosci bene l'Italia, hai corso contro l'italiano, parli correttamente l'italiano, quindi non è la tua gara di casa ma quasi. Cosa diresti agli italiani che saranno in giro per Missano per andare a vederla? Missano secondo me sarà un bel posto per andare a fare le gare, io non so mai stato questo circuito. Da una parte sono un po' triste di non correre più a Roma, credo che Roma faceva già parte della nostra storia qui in Formula E, però arriviamo in un circuito nuovo, c'è un circuito dove c'è molta storia già con MotoGP. Vediamo, secondo me ci sarà abbastanza gente che ha la voglia di vedere la Formula E, sarà una gara molto competitiva anche lì, una gara più come San Paolo con tanto slipstream. Per me saranno due circuiti nuovi da scoprire, questo qua tocca poi a Missano, allora un po' di lavoro questo mese. Si corre nella patria dei motori a scoppio, Ferrari, Lamborghini, Maserati, tanti altri Ducati, sono nati nella Motor Valley, come si chiama la zona dove c'è Missano. Vi sentite come degli intrusi o è uno stimolo in più per far vedere la tecnologia dell'elettrico? No, secondo me è una bella opportunità per far vedere la nostra tecnologia, il nostro campionato, vediamo, credo che la gente l'interesse c'è per venire a guardare e sono sicuro che facciamo una gara, due gare bellissime da guardare e ho una buona aspettativa per questo weekend.